Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni del segreto che avremo modo di vedere in onda sia in Daitime che in prima serata. Cosa succederà in questi nuovi episodi? Le trame raccontano che in paese arriverà una nuova donna, si chiama Rafaela e il suo arrivo non passerà per niente inosservato. A rivelare qualche informazione in più su questa donna sarà Rosario, la quale ha scoperto che Rafaela in realtà è una donna sposata ed è scappata dal suo paese in primis per sfuggire al severo marito che la trattatava come una schiava. Ecco allora che la vicenda personale di Rafaela commuoverà non poco le altre abitanti di Puente e Viejo, le quali decidono di darle una mano. Le anticipazioni del segreto rivilano che Emilia decide di assumere la donna come cameriera all'interno della sua locanda ma tuttavia gli abitanti di Puente e Viejo non sanno che in realtà Rafaela non è affatto così come sembra e nasconde una. Aspetto che quando verrà a gala lascerà tutti senza parole. Continua, a seguire il nostro canale, iscrivendoti, così non perderei nemmeno una puntata. Metti un bel mi piace e clicca sui video che ancora non hai visto.